Sto usando gondola da 3-4 mesi, due volte a settimana, 90 secondi di applicazione. Non è dolorosa, assolutamente, è solo un po' fastidiosa, ma è pochissimo. Appena applico la gondola, veramente mi sembra di avere le ali ai piedi, sinceramente. Aumenta la velocità del passo, la camminata veloce, il passo più lungo e la postura è migliorata tantissimo. Il freezing non fa parte più della mia vita, veramente, non so più cosa sia.